Musica Nuova puntata di Crimini, benvenuti e entriamo subito nel vivo. Arcangelo Badolati, benvenuto, bentornato. Grazie, grazie. Perché? Allora siamo entrati subito nel vivo, solitamente facciamo un po' di... Melina. Di Rosso Popè all'inizio, un po' di parole, un po' di introduzione. Questa volta invece entriamo subito nel vivo. Perché? Perché oggi c'è chi gioca in casa. Allora, perché dico questo? Il nostro Arcangelo ormai è protagonista qui a Ten, ma soprattutto a Crimini, è sempre in casa, è sempre di casa e siamo felicissimi di tutto questo. Però oggi gioca doppiamente in casa. E perché questo? Ecco, bravo Enzo Leonetti che mi dà il primo piano. Perché oggi io ho qui con me questo libro, che adesso vedremo anche copertine e tutto, che si chiama Figli traditori, che è l'ultima fatica letteraria di Arcangelo Badolati. E oggi perché questo? Perché oggi affronteremo questo libro, che è divenuto argomento e discussione in casa mia, che era Arcangelo, perché la sera, da poco uscito, ce lo contendiamo mia e mia moglie. E alla fine vincono sempre le donne, tu lo sai benissimo. Siamo il sesso debole, altro che sesso forte, e quindi io devo leggermelo nei ritagli di tempo. Scherzi a parte, è un libro che racconta, ecco, Figli traditori. Già il titolo dà un po' idea di quelli che sono gli argomenti trattati che oggi tratteremo nella puntata di crimini. Arcangelo, io prima di iniziare e di entrare negli argomenti, volevo un attimo riflettere con te davvero su quella che è la presentazione anche di Antonio Nicaso, leggendo solamente un piccolo tratto. Sono figli che si ravvedono, stanchi di subire e di avere sempre qualcuno che decida per loro. È una vita segnata, quella dei rampolli dell'Andrangheta, un'organizzazione che è diventata familiaristica nel tempo, in concomitanza con l'arrivo dei fondi della Cassa del Mezzogiorno. E poi vado dall'altra parte, diciamo, dell'introduzione di Nicaso. L'Andrangheta non è invincibile, e poi ti dico perché ho scelto questo tratto, è in un contesto sempre ibrido, in bilico fra realtà analogiche e virtualità digitale, è possibile scalfire quella corazza che ha sempre protetto i boss e i loro affiliati. Tutti noi siamo chiamati a fare la nostra parte, contribuendo a liberare i territori dalla paura e dai bisogni. La lotta alla mafia deve diventare priorità nell'agenda politica di qualsiasi governo. Ecco, perché io ho preso questo tratto, insomma, del libro, dell'introduzione, anzi, di Antonio Nicaso? Perché mi pare che nel tuo percorso letterario, fatto di tanti libri, c'è stata forse un po' una svolta, per certi versi, e te lo chiedo. Perché tu, a un certo punto, hai scritto un libro in cui racconti, dopo aver raccontato un po' il brutto della Calabria, racconti il bello della Calabria, i luoghi meravigliosi che abbiamo, e poi viene fuori figli traditori. È un po' un segnale di speranza. Ecco perché prendo queste parole di Nicaso, perché parla della mafia, della criminalità organizzata, che non è invincibile e dobbiamo sconfiggere quella corazza. Ecco, questa linea sottile, che unisce un po' tutti i tuoi libri, passa un po' adesso dalla speranza che qualcosa possa cambiare, perché questi rampolli di Indrageta sono stanchi probabilmente della vita a cui potrebbero e dovrebbero essere virtualmente chiamati ad affrontare. Certamente vi è un cambiamento dovuto anche al cambiamento dei tempi, alle prospettive che un ragazzo, il figlio di un boss, può avere oggi e non aveva ieri. Prospettive poi ben conosciute, nel senso che poi vivendo all'interno di una consorteria mafiosa importante, come qualsiasi consorteria mafiosa legata all'Indrageta, ci si rende conto della grande disponibilità di denaro che si ha per via del traffico di stupefacenti, delle estorsioni, delle grandi capacità dimostrate nell'investire questo denaro, non solo in altre zone d'Italia, ma all'estero. Quindi molti giovani appartenenti e famiglie storiche dell'Indrageta si rendono conto che si può vivere benissimo ad Amsterdam, a Bruxelles, a Praga, a Bratislava, a Varsavia, cioè ci sono posti nei quali, in Spagna poi particolarmente, nei quali si vive bene e con tutto questo denaro si può fare una grande vita. Quando ci si imbatte poi nel carcere, nell'arrivo a catena di ordinanze di custodia cautelare, nel 41 bis, eccetera, molti di questi ragazzi comprendono che quella vita era una vita sì ricca, ma pure molto effimera, che poi è cambiata da un momento all'altro. Quindi probabilmente rispetto ai padri non reggono all'impatto col carcere o hanno il desiderio di fare una vita diversa, di sganciarsi, di affrancarsi da quella vita a cui erano destinati e quindi scelgono un'altra strada. Un tempo un padrino di Indrangheta e quindi poi suo figlio, i suoi nipoti accettavano, e ancora è così, in alcune zone della regione, accettavano la carcerazione, era, come dire, un costo che occorreva pagare, un prezzo, un costo da sostenere e un prezzo da pagare. Alcune cose nel tempo sono cambiate, anche per, certamente, la maggiore capacità offensiva mostrata dalla magistratura, le condanne che sono arrivate e quindi lentamente le cose stanno cambiando. È un segnale di speranza. Io direi poi la scelta di ciascuno di questi figli traditori o forse eredenti, definitele come volete, è legata a questioni personali e non sono questioni personali uguali o sempre sovrapponibili. Ciascuno prende una strada perché ritiene che in quel momento sia la strada migliore. Questo tipo di atteggiamento, un atteggiamento che ha dei precedenti e ha dei precedenti nel primo pentito, diciamo, negli anni Ottanta, che Pino Scriva, che era figlio di Ciccio Scriva, che era un personaggio importante di Rosarno, un dranghettista tutto tondo, era uno che aveva fatto una faida, il padre come lo zio Pino, di cui appunto Pino scrive il pentito, portava il nome, avevano fatto una faida contro i Cunzolo e quindi una famiglia grossa. Scriva si pente perché capisce a un certo punto di non contare più come prima, di non avere l'aura mafiosa accesa come l'aveva un tempo la sua famiglia, capisce che altri stanno venendo avanti. Un generale senza esercito decida di collaborare con la giustizia, farà molti danni, cioè attraverso le sue dichiarazioni saranno condannate tante persone, alcune delle sue dichiarazioni saranno chiaramente messe in discussione perché dirà pure cose che poi ritratterà, cioè avrà un atteggiamento anche censurabile da alcuni punti di vista, ma su alcuni fatti poi le sue dichiarazioni porteranno a condanna definitiva. C'è un pregresso anche significativo, Pino scrive si pente nell'83, diciamo dieci anni dopo più o meno si pente anche il figlio di un altro boss originario di Rosarno, terra da cui proveniva Pino scrive, che è Giacomo Zagari, il figlio di Giacomo Zagari, Antonio, dopo aver ucciso, spacciato droga, averne combinato di tutti i colori, decida di collaborare con la giustizia e quindi fa finire dietro le sbarre, sotto processo, un centinaio di persone dell'area della Lombardia, nel quale il padre aveva fondato un locale di Indrangheta, ricordatevi sempre che al maschile, mai al femminile, al femminile è una traduzione che viene fatta gergalmente, è il locale di Indrangheta, non la locale di Indrangheta, e appunto Antonio Zagari racconta tutto quello che è avvenuto nella sua cosca, quello che ha fatto il padre, i suoi amici, quello che ha fatto lui, confessa molti omicidi, poi scriverà un libro di cui ho curato la prefazione che si intitolava e questo è quanto di Rammazzare stanca, quindi Zagari sarà un altro protagonista di questi tratimenti verso padri e famiglie importanti, poi verranno degli altri personaggi che sceglieranno di collaborare con la giustizia, uno di questi per esempio è Luigi Bonaventura, che è figlio di un Indranghetista e soprattutto nipote di Luigi Vrenna, personaggio storico dell'Indrangheta crotonese, un personaggio di rilievo a capo di una famiglia che vinse contro il feudale una guerra, una vaida, uno scontro in armi insomma agli anni 70, Luigi Bonaventura poi collaborava con la giustizia, si renderà protagonista anche di interventi televisivi importanti, cioè si mostrerà per denunciare le cose che secondo lui non vanno nel mondo diciamo della criminalità e nel mondo soprattutto del servizio che dovrebbe proteggere appunto i collaboratori di giustizia. Vi saranno pure accanto a questi non so, anche pentimenti abbastanza rimossi in qualche maniera sconosciuti, dimenticati come possiamo definirli, dei pentimenti che sono stati secondo me sottovalutati, per esempio il pentimento di uno dei Procopio a Davoli in provincia di Catanzaro, un giovane Procopio che accusa il padre e alcuni altri parenti di omicidi nell'ambito della guerra che si consumò nel Soveratese e quindi un personaggio sfuggito a molti ma che insomma ha avuto secondo me un ruolo anche importante che è stato sottovalutato. Poi vi sono personaggi importanti ancora più importanti se pensiamo a quello che accade anche diciamo in ambito dranghettistico a quello che accade a Danesia Terme quindi siamo nell'immediato fine del primo decennio del terzo millennio del 2000 e lì si pente Giuseppe Giampà che è il figlio del professore di Francesco Giampà pensate che quando si sparge la notizia del pentimento di Giuseppe Giampà i detenuti che frequentavano il carcere di Siano questo è un racconto ma incredibile le scuole all'interno del carcere di Siano in forma di lutto diciamo quasi non frequentano le elezioni per tre giorni quindi il pentimento di Giuseppe Giampà che è capo del gruppo militare della Cosca che è stata fondata dal padre del padre in carcere da tempo è lui che conduce la guerra contro gli avversari il suo pentimento è una come dire un temporale anzi una bufera sulla criminalità alla Metina in questa città offesa dalla violenza mafiosa con decine di omicidi proprio frutto della guerra che Giampà conducono contro i loro avversari storici quindi è un pentimento significativo tra l'altro Francesco Giampà è il mandante dell'omicidio quindi il padre di Giuseppe il mandante dell'omicidio dell'ispettore Salvatore Averse della moglie Lucia Precenzano è stato per questo condannato a 30 anni con sentenza definitiva quindi un uomo che è dentro la storia di La Mezzaterme dove è stato per tre volte sciolto in tempi diversi il Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose quindi è un capo a tutto tondo nessuno poteva immaginare che il figlio il delfino addirittura quello che gestisce in nome del padre prima insieme ad altri poi addirittura personalmente le questioni della Cosca soprattutto il settore militare della Cosca è lui che prepara gli omicidi li ordina struttura il commando che deve andare ad uccidere quindi nessuno avrebbe mai immaginato che Giuseppe Giampà potesse fare una scelta di questo tipo fa molto pensare diciamo che più forse è importante lo spessore criminale della persona più diciamo ci possono essere rivelazioni eclatanti più fa scalpore ovviamente hai fatto riferimento alla protesta nel carcere però insomma diciamo che questo è uno di quei pentimenti forti e poi ti voglio chiedere diciamo qualcosa che so che c'è una differenza fra il pentimento e la collaborazione qui sai sono anche questioni molto personali collaborare può significare scampare al carcere Giuseppe Giampà ha ordinato molti omicidi certamente era destinato ad una condanna all'ergastolo poi in Italia può succedere di tutto però insomma il clima che respirava lui in quel momento era quello quindi poi decide di collaborare con l'allora procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli della DDA di Catanzaro oggi è procuratore di Salerno con il capo della mobile del settore del tempo Rodolfo Ruperti oggi è questore di Vibbo poi con Elio Romano che è il PM Antimafia che si occupa proprio di la mezza terme e quindi fa una scelta di campo sarà una questione di pentimento interiore lui dice questo ma è anche una scelta chiaramente che porta dei vantaggi cioè ti fa evitare di trascorrere tutta la vita in carcere lui è sposato ha figli quindi fa un ragionamento anche utilitaristico d'altronde il rapporto previsto dallo Stato è un rapporto sinallagmatico cioè io ti consento con le mie rivelazioni di colpire le cosche tu mi dai in cambio dei benefici quindi la detenzione domiciliare con diritto al lavoro significa che uno può uscire e andare a lavorare quindi sta fuori di casa una nuova identità un nuovo posto dove vivere alla fine del rapporto con la liquidazione una serie di vantaggi quindi se poi uno è pentito veramente questo lo sa solo lui per cui è un rapporto di questo genere un'altra clamorosa scelta è quella che fa Francesco Farao Francesco Farao che è il figlio di Peppino Farao che è un capo storico di Girò insieme a Cataldo Marincola c'è un personaggio e al fratello Silvio un personaggio centrale nella storia criminale di Girò e non solo perché è un personaggio che ha un riconoscimento mafioso che gli viene da tutte le altre cose che è lungamente detenuto eppure il figlio Francesco coinvolto in un'inchiesta antimafia della DT di Catanzaro deciderà di collaborare racconterà le sue peripezie come imprenditore cioè uno che ha costituito una società si è immesso sul mercato il fatto di chiamarsi Farao gli consente di avere dei vantaggi anche senza dover fare delle minacce lo racconta lui quindi ha indubbiamente dei vantaggi poi svelerà molte cose Francesco Farao parlerà dei collegamenti della sua cosca con la Germania metterà nei guai un vecchio amico del padre che è a capo di un'associazione addirittura di ristoratori italiani in Germania metterà nei guai un altro amico che vive a Parma che è stato un grande imprenditore apparentemente pulito che invece finanza il clan che è stato addirittura per un periodo socio del Parma calcio di società di rugby di calcio minore che ci sono lì quindi farà compilare il suo dovere di collaboratore di giustizia il pentimento di Francesco Farao anche legato all'omicidio così racconta lui e i magistrati che lo sentiranno è un pentimento legato certamente anche all'uccisione del cognato del marito della sorella Cataldo Aloisio che viene ucciso in Nord Italia e sarà proprio questo racconta lui sarà nel fratello e un cugino ad assassinarlo questo non lo fa dormire alla notte lo inquieta molto è un racconto che farà orende a Domenico Guaraccio che è il PM antimafia di Catanzaro che si è occupato in particolare del crotonese è un racconto interiore particolare naturalmente svelerà tantissime cose sulle cosche di origini le cosche diciamo la cosca ma insomma è una cosca che ha più teste ripeto Cataldo Marincola Giuseppe Silvio Farao è una cosca molto importante che da giro tra l'altro promane il proprio potere anche su larga parte della zona ionica del Cosentino quindi della Calabria settentrionale ionica che ha influenza ovviamente anche nel crotonese che partecipa anche ad alcune guerre nel crotonese che crede di essere al sicuro finché non scatta l'operazione Stigge cioè superata l'operazione antica Galasse nel 95 ritiene questa cosca di essere ormai padrone del territorio che fa investimenti gestisce strutture il figlio di Farao diventa imprenditore quindi una cosca invece viene colpita e questo terremoto determinerà anche la scelta collaborativa di Francesco Farao in quella zona Ciro ci sarà un altro pentimento significativo perché il pentimento di Gaetano Aloe Gaetano Aloe è il figlio del primo capo vero di quello che trasforma questa criminalità organizzata in mafia a Ciro che è Niccaloe che poi verrà ucciso nel 1987 dai suoi stessi sodali Niccaloe viene ammazzato dai suoi sodali i figli crescono senza il padre ma non vengono espulsi dall'organizzazione mafiosa anzi vengono fatti entrare dentro una figlia di Niccaloe sposerà Giuseppe Spagnolo detto bandito un personaggio importantissimo della criminalità cirotana e Gaetano Aloe crescerà insomma con l'idea di questo padre comunque ammazzato ma all'interno della cosca e poi compirà un gesto che invece a distanza di tanto tempo lo renderà anche protagonista criminale perché ucciderà Vincenzo Pirillo che era uno dei responsabili dell'omicidio del padre che era diventato contabile dei cirotani nel frattempo lo ucciderà in un ristorante cironmarina di fronte a decine di persone rivendicherà questo delitto come il compimento di una vendetta poi però deciderà di collaborare con la giustizia e i suoi interrogatori sono significativi perché all'inizio tenterà di tenere fuori Giuseppe Spagnolo il cognato il bandito tenterà di tenerlo fuori in una lotta in una partita a scacchi che farà con questo magistrato con Domenico Guarascio che invece lo presserà perché capisce il magistrato che Aloe non sta dicendo la vendetta tra l'altro molte delle parole che pronuncerà sono in dialetto quindi è molto quasi divertente leggere questi verbali perché il magistrato è costretto a tradurre quello che che Tano Aloe dice alla fine non sempre è semplice comunque non è semplice tra l'altro e tu che fare con l'ordinanza hai bene che alcune volte è anche difficile poi trascrivere in dialetto cioè è un qualcosa di bisogna capire uno di tutto ascoltare bene magari intercettazioni e altro poi capirlo e trascrivere è un lavoro è un lavoraccio sembra quasi un qualcosa di comico ma è un qualcosa di assolutamente complesso complesso è invece il livello di un altro pentito diciamo del crotonese di una famiglia molto importante la famiglia Mannolo quello di Dante Mannolo è un livello alto è uno che è istruito sa bene quello che fa è diciamo un operatore imprenditoriale della sua famiglia è figlio di Don Alfonso Mannolo che è stato capo storico dei clani San Leonardo di Cutro è un personaggio che è riuscito a sopravvivere anche alla guerra scoppiata tra Antonio Dragone e Nicolino Grande Aracri è stato sempre in equilibrio un uomo che mai si sarebbe aspettato dal figlio il pentimento invece Dante Mannolo parla parla con Paolo Sirleo con Domenico Guaraccio questi due magistrati della procura antimafia con Nicola Gratteri con Vincenzo Capomolla cioè è un pentimento che all'inizio timido poi diventa un pentimento pieno c'è un primo interrogatore in cui non dice tutto poi chiede di essere risentito racconta tutto racconta dei soldi racconta una storia incredibile cioè del tentativo di riciclaggio di 500 milioni di euro racconta proprio pedisseguamente l'incontro fatto a Milano con questo personaggio che aveva questo ufficio a due passi al comando della Guardia di Finanza di Milano in cui appunto si stabiliscono le quote come riciclare 500 milioni di euro chi l'avrebbe mai immaginato che da San Leonardo di Cutro piccolo puntino sulla carta geografica del nostro paese potesse partire un'operazione di questo genere qui Mannolo apre diciamo a questo scenario e ci fa capire quanto importante sia l'andrangheta calabresi in tutte le sue articolazioni nelle cosche più famose come in quelle meno famose quindi è un apporto il suo particolarmente significativo com'è importante e dirompente l'apporto di un altro figlio traditore o redento stabilite voi quale sia il termine più appropriato il tradimento tra virgolette di Emanuele Mancuso Emanuele Mancuso non è uno qualsiasi Emanuele Mancuso è il figlio di Pantaleone Mancuso detto l'ingegnere catturato in Sud America poi trasferito in Italia è come dire De Mancuso di Limbadi perché è nipote di Pantaleone Mancuso detto Scarpuni Ergastolano coinvolto in molti fatti di sangue avvenuti nel Bibonese è insomma erede diretto discendente di Ciccio Mancuso che è un personaggio basato dalla storia perché potete sapere che Francesco Mancuso detto Ciccio è figlio di Peppe Mancuso quindi uno degli undici fratelli che creeranno questa genia diciamo secondo la magistratura criminale Ciccio Mancuso è uno che mentre è latitante siamo nel 1983 si candida al Consiglio Comunale di Limbadi ed è il primo eletto assoluto quindi potrebbe diventare il sindaco di Limbadi e la vicenda è tanto scandalosa che il Presidente della Repubblica dell'epoca il sanguigno passionale Sandro Pertini venito a conoscenza di quello che sta succedendo a Limbadi per la prima volta nella storia del nostro paese almeno in storia repubblicana con un provvedimento ad hoc per ragione di ordine pubblico scioglie il Consiglio Comunale di Limbadi Ciccio Mancuso è anche un alleato storico dei clan della Piana di Giulia Tauro quello che contribuisce anche alla realizzazione del porto attraverso la creazione di una cava dalla quale vengono presi materiali inerti poi utilizzati per realizzare il porto e insieme a Luigi Mancuso uno dei personaggi storici di questa famiglia ecco Emanuele Mancuso appartiene a questo clan che non ha mai avuto un pentito e lo dice proprio uno dei personaggi più in vista della famiglia Pantaleone Mancuso detto vetrinetta molti si chiamano Pantaleone perché è il santo protettore di Limbadi è il patrono San Pantaleone Pantaleone Mancuso detto vetrinetta parlando ignaro di essere ascoltato racconta nella mia famiglia non vi sono mai stati dei collaboratori di giustizia per sua fortuna morirà prima perché poi invece questo nipote diventerà appunto il primo collaboratore di giustizia dei Mancuso di Limbadi e sarà una collaborazione piena che comincerà quando Emanuele Mancuso avrà il regalo dalla vita la nascita di una figlia quindi mentre la compagna è in ospedale Emanuele Mancuso decide di collaborare succederà un fatto molto grave sarà lasciato completamente da solo non lo seguirà neppure la compagna e dovrà ingaggiare una durissima battaglia legale per ottenere l'affidamento di questa figlia ma ne parleremo nella seconda parte beh sicuramente abbiamo già raccontato tanti figli traditori o figli probabilmente quasi il figlio del prodigo mi viene sotto un certo punto di vista ricordare però abbiamo ancora tante storie da raccontare anche alcune donne famose diventate famose per un percorso ecco sicuramente simile a quello a quelli che abbiamo raccontato e che racconta appunto Arcangelo Badolati oggi e nel suo libro Figli traditori ci fermiamo un attimo torniamo fra pochissimo seconda parte di crimini ovviamente abbiamo stiamo raccontando un po' di di vicende che riguardano i famosi figli traditori ricordo sempre ecco abbiamo qui ce l'ha da le tue spalle vedi la copertina del libro anche con la prefazione di Antonio Nicaso e anche con questa ecco con questa immagine è particolarmente forte particolarmente significativa Arcangelo sì questo è un dipinto di Francesco Goya custodito in un famoso museo di Madrid ed è Saturno che mangia i figli quindi è la visione opposta però questi figli invece che si ribellano non si fanno mangiare quindi perciò abbiamo scelto queste immagini a parte l'importanza di Goya come pittore che è un artista che è certo superiore alla mia di gran lunga ma insomma è una scelta diciamo anche significativa assolutamente sembra quasi inversa appunto Saturno che mangia i figli in questo caso sono i figli che tradiscono tra virgolette non si fanno mangiare ecco non si fanno mangiare dai genitori genitori o parenti che invece in alcuni casi abbandonano tra virgolette i propri congiunti soprattutto in alcuni casi soprattutto quando ci sono scelte come queste come quella di Emanuele Mancuso siamo rimasti ancora ad Emanuele Mancuso ripartiamo da qui sì Emanuele Mancuso quindi decide di collaborare la sua compagna in ospedale lo comunica le dice preparati se c'è qualcuno fai finta di parlare con un altro invece la compagna non lo seguirà in questa scelta anzi gli dirà proprio che non intende che la figlia venga chiamata figlia di un pentito invece lui riuscirà poi ad ottenerne l'affidamento ma dopo una lunga battaglia ma lo abbandoneranno tutti il fratello che verrà messo al corrente nel carcere di Sano di quello che sta accadendo lo insulterà pubblicamente poi lo minacceranno cercheranno di farlo ritratare gli offriranno la possibilità se ritratta di crearsi una nuova vita magari in Spagna gli compreranno un esercizio commerciale un bar insomma sono tante le offerte che Emanuele Mancuso non accetterà condurrà questa battaglia con durezza all'interno di una famiglia nella quale come diceva Pantelone Vetrinetta prima di morire e ignaro di quello che il suo nipote avrebbe poi fatto insomma non c'era mai stato un collaboratore di giustizia come è difficile anche trovare collaboratori di giustizia all'interno di famiglie della cosiddetta criminalità nomade una criminalità molto strutturata in cui sono tutti parenti fra di loro in gran parte hanno tutti gli stessi cognomi hanno un loro slang identitario nella comunità nomade invece succede anche che decida di collaborare un figlio per così dire d'arte che è il figlio di Fiore Abruzzese si chiama Celestino Abruzzese come il famoso Celestino Abruzzese detto Ciccio Uzzing rovasso di bastoni il capo storico carismatico della criminalità nomade castanese lui appunto Celestino Abruzzese ha detto mi ha detto decide di collaborare lo fa prima con il PM antimafia Camillo Falvo poi con i pubblici ministeri antimafia Vito Valerio Corrado Cubellotti con il procuratore Vincenzo Capomolla e apre uno squarcio su questa criminalità nomade operante sia a Cosenza che nel castanese lui si occupa di traffico di droga è stato condannato con sentenza definitiva si pentirà con lui la moglie Anna Palmieri quindi apriranno certamente uno squarcio molto interessante dal punto di vista investigativo le loro dichiarazioni determineranno forniranno un apporto rilevante all'operazione Tessa del Serpente che nel 2019 colpirà la criminalità nomade cosentina riveleranno che c'è questa confederazione tra Cosca e Cosenza che verrà poi confermata dall'operazione Reset almeno in fase di indagini preliminari un'operazione proprio dei PM antimafia Valerio e Cubellotti poi parlerà del rapporto con i castanesi ci sono pochi precedenti Enagmetà Nomade due in particolare uno è quello di Franco Bevilacqua Franco Di Mafalda autore della strage di Via Popilia pluriomicida narcotrafficante legato all'SCU che inizierà a collaborare deve scontare 30 anni di carcere viene arrestato nel 2001 in una villetta di Marina di Giovesaioni e la polizia deciderà di collaborare racconterà tantissime cose poi ve ne sarà un'altra di collaborazione quella di Franco Bruzzese che è un importante personaggio della criminalità nomade di Cosenza che deciderà di parlare con i magistrati antimafia in particolare con Pierpaolo Bruni e racconterà abbedire a Pina assalti frumi di Bruttovalori degli interessi delle cosche di alcuni omicidi insomma offrirà un quadro ma vedete sono in tre in tutto quindi non c'è questo profluvio di pentiti che notiamo invece nella cosiddetta drangheta tradizionale però proprio per questo la collaborazione di Celestino Abruzzese e Tomicetto viene ritenuta importante poi vi sono altri pentimenti o collaborazioni scegliete il termine più ad altro secondo me è più giusto dire collaborazioni che pentimenti che il pentimento è una cosa interiore uno significativo ve lo dico per via anche dell'esperienza fatta nello scrivere questo libro e per averci parlato lungamente una collaborazione e un pentimento è quello di Domenico Agresta Domenico Agresta è appartenente all'andrangheta la sua famiglia è una famiglia di Platì la famiglia di sua mamma quella dei Marand è una famiglia che proviene da Platì Domenico Agresta vive tra il Piemonte la Lombardia è autore di un omicidio che commette un po' come avete visto nel film Il Padrino come l'omicidio fatto da Clemenza che porta la vittima in macchina a un certo punto dice lo dico fermati devo scendere a fare un bisogno la stessa cosa fa Domenico Agresta scende dalla macchina torna in macchina e uccide l'uomo che doveva uccidere perché era una persona che gli era legata ma che aveva sgarrato con la famiglia con il gruppo di cui Domenico Agresta faceva parte viene poi arrestato Agresta condannato con sentenza definitiva e trascorrerà otto anni di carcere dietro le sbarre per capirci Domenico Agresta è figlio di Saveria Agresta e nipote di Domenico Agresta di cui porta il nome che è il fondatore dell'Andrangheta a Volpiano un uomo come dire omaggiato da tutti in Piemonte da tutti gli indranghetisti è nipote diretto di Pasqualino Marando uno che portava da 2.000 a 2.500 kg di cocaina alla volta dal Sud America all'Italia proprio per la considerazione che aveva nell'ambito degli esponenti dei cartelli colombiani poi scomparso per ruola bianca ucciso comunque a Platì questo lo sappiamo è nipote di di Marando Giuseppe Marando che viene ucciso e la sua morte sarà pagata con 4 delitti in serie che verranno commessi per vendicarla e anche nipote di Rocco Marando uno dei fratelli che a un certo punto si pente ma un pentimento altalenante che viene ritenuto credibile fino a un certo punto ma appunto è anche in qualche maniera imparentato almeno inizialmente con Maria Stefanelli che la prima donna lesbica dichiarata che era la moglie del Marando zio ucciso appunto in Lombardia e che dichiara parla contro i Marando della famiglia della mamma di Domenica Gresta certamente nella vita di Domenica Gresta Pasqualino Marando che è il maestro di Bebbe Pannonzi per farvi capire il livello del personaggio avrà un ruolo centrale eppure questo ragazzo dopo 8 anni di carcere per omicidio decide di collaborare non lo fa perché non vuole fare il carcere il carcere lo sta facendo bene eppure gli danno gradi sempre maggiori in carcere che non solo è una Gresta Marando ma è uno pure che la carriera la regge ma si pente perché in carcere comincia a frequentare le lezioni scolastiche incontra degli educatori che gli rappresentano un mondo che lui non ha mai visto il mondo della letteratura oggi è un uomo che ha recitato a me a memoria 5 canti della Divina Commedia a memoria è uno che quindi impara cosa sia la cultura la letteratura la poesia l'arte la filosofia insomma questa cosa lo cambia radicalmente e quindi lui sceglie di rompere con questo passato di rompere con questo mondo nel quale è cresciuto di rompere con tutta la sua famiglia con le sorelle con gli zii con il padre con la madre insomma con tutti quelli che appartenevano a questa famiglia imparentata anche con i barbano con i papali è una famiglia molto importante e quindi offre una serie di chiave lì lettura su molti crimini quello che avete in foto è Pasqualino Marando su molti crimini tra cui l'omicidio del procuratore di Torino Bruno Caccio avvenuto nel 1983 a giugno ad opera di killer dell'Andrangheta è un pentimento che fa capire quello di Marando come fattori esterni possono influire su alcune scelte questo ragazzo capisce che c'è altro nella vita e quindi decide di collaborare lo dice chiaramente quando i magistrati come dire molto scettici della DDA di Torino della direzione di settore antimafia di Torino lo vanno ad incontrare lui lo dice questi cominciano a capire che c'è davvero un cambiamento in questo uomo poi dirà tantissime cose il cambiamento sarà dimostrato dai fatti diciamo che è un cambiamento molto radicale perché di fatto interiore stiamo parlando comunque ecco un cambiamento interiore un percorso interiore abbiamo fatto riferimento a tante collaborazioni e pentimenti stiamo distinguendo le due cose in questo caso attraverso la cultura attraverso l'attratura si arriva probabilmente ecco a scoprire mondi nuovi e in alcuni casi probabilmente questi rampolli non hanno mai scoperto una vita diversa da quella sono vissuti sempre sotto questo punto di vista diciamo e chiusi in questa barriera se vogliamo e si sono trovati a non conoscere il resto della vita assolutamente poi lui tra l'altro quando fa questo incontro con la cultura incontra questo mondo che poi apprezzerà tal punto da imparare a memoria i canti della Divina Commedia è nel carcere di Saluzzo io non sapevo neanche che esistesse il carcere di Saluzzo ma un carcere che funzionava bene e subisce in carcere a un certo punto il trasferimento di uno dei suoi zii dai Marando e questo zio gli comincia a dire ma non è che mi pare che stai andando troppo questi educatori questi insegnanti non è che questi sono chiacchieroni lui la presenza di questo zio la subisce perché gli impedisce quasi di studiare perché questo zio lo controlla è il racconto che fa Domenico Marando questo racconto pubblico ufficiale e quindi subisce quando lo zio se ne va si sente di nuovo libero di continuare a studiare studiare a studiare a imparare a capire si confronta con questi insegnanti con questi educatori quindi lo fanno sentire una persona diversa fin quando decide di scrivere la prima lettera la fa il magistrato di sorveglianza non sa che deve scrivere alla DTA quindi il magistrato di sorveglianza dice no perché scrivi a me poi scriverà ai magistrati della DTA che lo guarderanno con sospetto con scetticismo c'è un possibile uno che dei Marano degli Agresta vuole collaborare invece sarà un apporto significativo il suo ancora tante cose secondo me dovranno venire fuori a seguito delle dichiarazioni che ha reso certo parlandoci uno si rende conto che è un uomo diverso che soffre perché naturalmente c'è tutto il suo mondo di prima che gli va contro questo lo spiega bene sia Domenico Agresta e lo spiega bene anche Emanuele Mancuso che dice essere uno dei Mancuso significava essere rispettati da tutti tutti ti davano il cedevano il paso tutti erano pronti a servirti però io avevo la casa che ogni giorno sì un giorno no veniva sventrata dagli interventi delle forze dell'ordine io capivo insomma anche questo però era importante essere un Mancuso poi quando ti penti sei il nemico di tutti ecco la stessa cosa vale per Domenico Agresta dice la stessa cosa da quel momento tutti ti abbandonano anzi continuano ad insultarti su TikTok attraverso i social ti cercano anche se non sanno dove sei e ti insultano usando pseudonimi insomma quindi è un attacco che questa gente subisce sempre e continuamente non è facile per uno che è cresciuto in quell'ambiente Emanuele Mancuso Tremancuso Domenico Agresta si chiama come il nonno è un successore diretto ha una responsabilità il nonno affondato l'andrangheta a Volpiano però è riuscito ad uscire da tutte queste sovrastrutture da questa prigione subculturale quindi è un passo per carità significativo immaginate però la difficoltà che hanno queste persone e quando poi queste persone sono donne la difficoltà è ancora maggiore immaginate la difficoltà che ha incontrato per esempio Giuseppina Pesce tutti hanno parlato di questa donna ci è dedicato a una fiction televisiva The Good Mother ma quello che ha dovuto sopportare Giuseppina Pesce non verso gli altri solo per gli altri ma verso se stessa questa donna che è cresciuta in un certo modo e quindi poi questo modo l'ha dovuto completamente destrutturare per cui è un mondo che è crollato e che lei stessa ha fatto crollare con uno sforzo psicologico emotivo straordinariamente importante con vari tentativi che ha dovuto sopportare attraverso i quali si è cercato di farla tornare indietro con le mille paure perché una sua cugina è scomparsa per l'uva a bianca nell'81 si chiamava Annunziata Pesce una donna che è una sua compagna di gioventù e di scuola Maria Concetta Cacciola mentre lei è riuscita a mantenere questa scelta dopo che pure Maria Concetta aveva tentato di affrancarsi l'Andanget è tornata a casa è stata trovata morta uccisa dall'acido muriatico che ha ingerito quindi c'è una lettera bellissima che Giussi Pesce fa nell'agosto del 2011 in occasione della morte di Maria Concetta Cacciola che è particolarmente significativa in cui rivendica pubblicamente la propria scelta di libertà dopo che è stata costretta Giussi Pesce a fare una retromarcia che si rivelerà una retromarcia strumentale lei stessa racconterà come è avvenuta questa retromarcia secondo quali spinte e secondo quali suggerimenti quindi farlo da donna è difficilissimo perché magari si diventa spose molto giovani si è educate a servire quel mondo e quindi è dirompente è difficilissimo è facile raccontarlo è facile scrivere è facile anche dare giudizi ma tradire quel mondo il verbo giusto è tradire quel mondo uscirne usiamone in altro affrancarsi da quel mondo è una scelta dolorosissima e difficilissima dal punto di vista emotivo e psicologico perché tu come dire fai a pezzi tutto quello tutto il mondo che hai costruito insieme agli altri i tuoi familiari e soprattutto rompi qualsiasi rapporto con la famiglia perché nessuno ti accetta come pentito o pentita quindi si vive in una condizione di isolamento non è facile poi ricostruirsi una vita da un'altra parte in una città in cui nessuno ti conosce magari a seguito per ragioni di sicurezza per qualche svista fatta di protezione si è costretti poi magari a cambiare pure città hai un altro nome devi ricordarti come ti chiami perché ti chiami devi cambiare tutto cambi completamente vita cambi tutto non è una scelta semplice questo è assolutamente è ovvio diciamo che è una scelta per avere una vita migliore una vita nuova però anche in quel caso ci sono non è un percorso in discesa questo lo possiamo dire ci vuole grande coraggio si è un percorso difficile appunto accidentato in cui il primo nemico si ha dentro non sono solo quelli di fuori il primo nemico ce l'hai dentro perché devi comunque fare a meno di tutto il tuo mondo dai tuoi effetti più cari a tutta la costruzione della vita che ti hanno dato non è più quella quindi è uno sforzo enorme c'è un caso anche molto singolare il caso di un ragazzo si chiama Salvatore De Castro e spinge il padre questo ragazzo il padre si chiama Emanuele ed era vice capo diciamo del locale di Legnano il locale di Legnano governato da Vincenzo Rispoli cugino parente dei farao di Ciro il padre di questo ragazzo Emanuele è in questo clan ha un ruolo importante ma Salvatore vuole lasciarlo quel mondo quindi è il primo a collaborare e convince il padre a collaborare con la giustizia il padre di origine siciliana infatti viene chiamato il siciliano però convince il padre a collaborare sarà una scelta che li farà uscire da quel mondo che probabilmente è una scelta che in qualche modo li salva c'è anche dobbiamo dirlo nella mafia siciliana in Cosa Nostra Siciliana un precedente c'è un figlio traditore che è Leonardo Vitale il primo pentito che poi viene fatto passare per pazzo perché nipote diretto impropriamente lo chiamo figlio traditore ma insomma nipote diretto di un boss importante del palermitano e lui collabora con la magistratura non tutti gli credono cominciano a dire che è matto viene ricoverato in manicomio rimane in manicomio e quando uscirà dal manicomio e le sue comunque accuse saranno neutralizzate nel frattempo quando uscirà dal manicomio torna a casa dalla mamma va a messa un pomeriggio viene ammazzato davanti alla chiesa gli faranno pagare per dire alla mafia a memoria dell'elefante Leonardo Vitale è uno dei pochi figli traditori che esistono nell'ambito della storia della mafia siciliana c'è una figlia che è Giussi Vitale che non è parente di Leonardo Vitale ma che poi si scoprirà una finta traditrice per chi poi riprenderà delinquere dopo aver reso dichiarazioni fatto un libro essersi fatta dedicare a dei film e ve l'ha riarrestata poi proprio qualche anno fa per traffico di sostanze stupefacenti quindi è l'andrangheta in questo momento che sta rivelando questa figura assolutamente unica del figlio traditore o redento come preferite e questo segnale siccome sono tanti stanno aumentando questo segnale lascia intravedere un fenomeno più generale cioè l'andrangheta è un'organizzazione che si basa sulla famiglia il nucleo fondante centrale di questa mafia è la famiglia quindi padri figli zii incroci tra famiglie il nucleo fondante è la famiglia quando un figlio il figlio di un boss per esempio un predestinato il delfino come nel caso di Giuseppe Giampari rispetto al padre Francesco decide di collaborare con la giustizia non solo provoca un danno diciamo al clan ma indebolisce l'idea stessa della famiglia la sua struttura familistica centrale indebolisce il suo stesso sangue leva credibilità proprio a questo cognome al nome che si porta e quindi è un terremoto vero e proprio questo terremoto sta via via interessando cosche diverse di aree diverse della Calabria meno visibile anzi al momento assolutamente non visibile all'interno invece delle cosche diciamo dell'area regina vi sono solo due pentimenti non sono pentimenti di figli nel regino ma di fratelli sono pentimento di del fratello di Tommaso Costa capo del clan che lungamente a Siderno si è confrontato in una guerra contro i commisso e del fratellastro di uno dei cordì che lungamente si è misurato appunto invece all'Ocri in una faida con i Cataldo ecco questi due fratelli hanno reso dichiarazioni contro i loro germani non sono figli sono fratelli però anche lì significa che qualcosa nel sistema familiare proprio a Siderno e l'Ocri posti centrali quando parliamo di indrangheta qualcosa pure nel sistema della famiglia si è incrinato sono ancora mosche bianche mentre come vedete nel centro e nel nord della regione questo fenomeno è un pochino più diffuso e soprattutto diffuso in alcune famiglie che si pensavano non potessero essere interessate da pentimenti introni al nucleo centrale e fondante vedete il caso di Farao il caso di Mannolo il caso di Mancuso e di Arcangelo io volevo porti questa domanda ripartendo ecco da dove siamo partiti prima cioè dal tuo libro siamo in chiusura e volevo ripartire proprio dalla frase che ho letto poc'anzi sulla presentazione di Nicastro di Nicastro scusate stavamo parlando della mezza è venuto Nicastro la lotta la mafia deve diventare prioritaria nell'agenda politica di qualsiasi governo ovviamente non ti chiedo e in questo libro non troverete ovviamente questo tipo di giudizio ma troverete altre storie però io un giudizio te lo chiedo non sull'operato di un governo ovviamente ma te lo chiedo su quella che può essere la tendenza c'è una tendenza negli ultimi anni negli anni insomma ultimi anni non intendo dire solamente uno o due ma anche allargando un po' l'orizzonte c'è una tendenza a serrare questa lotta o magari superato quel periodo insomma anni 90 famosa trattativa diciamo che le cose sono cambiate e c'è un po' un allentamento cioè tu come la vedi la lotta alla mafia da parte delle istituzioni negli anni è una lotta che ha subito gli alti e bassi c'è una tendenza verso un un rafforzamento o diversamente le cose non stanno andando sotto questo punto di vista ma guarda l'andrangheta è stata la mafia più intelligente in Italia ha sempre evitato conflitti diretti con le istituzioni ha sempre evitato di assassinare in maniera eclatante esponente le istituzioni è accaduto ma sono pochissime le vittime Cosa Nostra ha sfidato lo Stato l'ha sfidato prima in Sicilia poi nel resto del paese provocando una reazione ecco la reazione di quegli anni è una reazione provocata dall'eclatanza dei fatti dopo quell'esperienza già quando Rina è stato arrestato e Bernardo Provenzano ha preso il controllo di Cosa Nostra anziché continuare in questa offensiva ha scelto la strada dell'immersione gli omicidi necessari solo se necessari cose meno eclatanti quindi rispetto a quegli anni c'è chiaramente un calo di tensione perché non si avverte il pericolo immaginate pure che molti ragazzi che oggi frequentano le scuole superiori non erano nati nel 92 nel 93 cioè c'è una memoria perpetuata importante ma forse non basta e quindi anche il mondo politico che lascia fermo il 41 bis lascia fermo l'ergastolo lascia ferme diciamo le azioni compiute per mantenere forte il delitto di associazione mafiosa e quindi c'è una giurisprudenza tutto in questa direzione ecco rispetto magari al personale politico del 94 95 ha meno motivazioni ma perché sono state più intelligenti le mafie che sono adeguate a quello che ha sempre fatto l'andrangheta quindi è una questione di calo di tensione sicuramente nessuno ha il coraggio poi di dire che bisogna lasciare la lotta alla mafia perché farebbe una cosa sbagliata le mafie oggi sono meno violenti ma più in qualche maniera influenti perché utilizzano metri diversi hanno grandi capitali entrano dappertutto tu non sai se è una società che è un nome americano è una società dietro la quale si gelino capitali mafiosi magari di mafiosi calabresi questa è la sensazione che ho io certamente allora grazie Arcangelo che attraverso il tuo libro che abbiamo rimosto nuovamente e l'abbiamo qui anche alle nostre spalle ci hai raccontato ancora storie storie di fighi traditori storie di criminalità organizzata ma anche storie di speranza grazie ancora grazie a voi grazie a tutti quanti voi per averci seguito e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti